Se le studiate talmente bene le carte, che ci ha fatto un libro su tutta questa storia? La storia delle sorelle Napoli che ormai appassionano davvero mezza Italia e che abbiamo imparato a conoscere attraverso la trasmissione di Massimo. Chi ha scritto questo libro? Le dannate. Ed è la storia, la storia che poi abbiamo visto in quella puntata della tua trasmissione che ha raccontato davvero uno spaccato di questo paese. Come sicuramente non poteva fare, continuando a farlo dall'interno di uno studio. Andare lì ha reso tutto più visibile e sicuramente anche più facile da capire. La storia delle sorelle Napoli che non si arrendono alla mafia. Questo è il tuo primo libro e tu lo spieghi perché hai sempre pensato ai tuoi colleghi che scrivevano libri, che avevano un sacco di tempo da spendere, da fare. Mai avresti pensato di scrivere un libro. È accaduto qualcosa con questa storia? Seppure nella tua lunga carriera di storie, ne hai viste tante. Mi è sempre stato chiesto di scrivere un libro perché ovviamente le storie ne ho raccontate tante. Però credo che per scrivere un libro ci si debba entrare davvero. Cioè deve essere parte di te. Se no è qualcosa che tu fai per te stessa e non per gli altri. Qui c'è invece qualcosa... Perché qui sì? E ne avrai viste tu di storie. Sì, però questo è molto particolare. Come avete visto anche questo spaccato di questo scontro televisivo col sindaco. che è sempre un momento. Quando tu estrapoli un frammento da un programma, hai una percezione ma non hai la realtà delle cose. Noi avevamo appena usciti pochi minuti prima da un punto in cui... Io purtroppo questo non l'ho potuto scrivere nel libro. Ma nel libro c'è tanto materiale per capire la difficoltà di queste tre donne che vivono lì. Al sindaco ho chiesto come mai e se fosse vero che lui si era recato alla tumulazione del capo mafia. Da cui nasce un po' tutta questa storia. I funerali ovviamente erano stati vettati dal questore. Era il 2006 e lui era assessore. Io pensavo negasse. In realtà ha detto sì, sono andato. In quel momento se fossi stato non il conduttore, ma uno degli ospiti, mi sarei alzato e me ne sarei andato. Via. Perché quando tu vai come uomo di Stato, uomo delle istituzioni, a un funerale, a una tumulazione. Il funerale non c'era stato, era stato vietato, ma la tumulazione fuori dal cimitero, dai un segnale molto preciso. Quindi le reazioni del sindaco che avete visto lì molto vementi e la stessa mia arrivavano dopo un percorso. Che secondo me aveva sancito la chiara situazione. Cioè queste donne sono state messe nell'angolo perché hanno avuto il coraggio di ribellarsi a quella che culturalmente era l'idea che il capo mafia risolvesse tutto. Loro sono andate dai carabinieri. Ecco perché mi interessava. Erano anche tre donne sole che hanno avuto coraggio di difendere la propria terra e di andare dai carabinieri. Da lì nasce tutto un inferno. Un inferno. E tra l'altro io voglio dire che nel libro ci sono anche delle cose in più. Molto. Molto in più. Documenti, cose raccontate rispetto a quello che noi abbiamo visto raccontato nel corso della tua trasmissione quest'anno. Posso dire, faccio un passo indietro perché questo libro tu hai detto che è la storia di tre donne, naturalmente le sorelle Napoli, ma questo libro parte dal racconto di un'altra donna. che è tua mamma e c'è tutto un racconto personale di quando ricordi appunto della sua figura di un giorno che eravate sulla collina. E tu scrivi, nonostante siano passati tanti anni da allora, quell'immagine del tramonto sulla collina con mia madre è sempre viva dentro di me. Se chiudo gli occhi e penso a quegli istanti rivivo lo stesso dolore e le stesse emozioni. aprirsi con gli altri è sempre difficile, poi non era l'occasione giusta, sempre in riferimento appunto a un fatto personale. Risalì sulla Jeep e pensai che anch'io ora non avrei dovuto lasciare le sole e le sorelle Napoli. Marianna, Ina e Irene mi avrebbero avuto per sempre al loro fianco, costasse quel che costasse. Qua forse c'è quella risposta che io ti ho chiesto all'inizio, no? Perché di tante storie che un giornalista abituato a stare sul campo, a raccontare, è proprio questa storia. Ma perché ci deve essere qualcosa di tuo, di vivo, anche di ferite laceranti che ti porti dietro. Io quando sono andato a trovare la prima volta, salendo, i loro terreni sono a mille metri, siamo nel cuore della Sicilia, vicino a Corleone, sono a mille metri, sono in alto quindi rispetto al paese. E per arrivarci c'è una specie di strada molto, chiamarla strada è un ufemismo, insomma, immaginate una sterrata piena di pietre, buche. Quando però piano piano io salivo su con i carabinieri, rivedevo in quelle montagne casa mia. E rivedevo soprattutto, a un certo punto ho chiesto di fermarmi perché c'era un panorama bellissimo, molto intenso, all'infinito, guardavi praticamente. Mi sono fermato e ho chiesto, voglio scendere. Ho guardato quell'immagine e mi è venuta in mente mia madre che quando ero piccolo avevano fatto una scelta, i miei fratelli erano più grandi. Mio padre diceva, voglio che crescano in città, mentalmente con la cultura da città. E io ero troppo piccolo per andare giù perché avevo quattro anni, con mia madre diceva, lo lascio giocare nelle campagne, si diverte, rimane città, no? Un po' occidentano. E invece io soffrivo moltissimo di questa cosa. Ho sofferto l'inferno perché ero rimasto solo, mio padre non c'era mai. Erano le mani di una tata tedesca che era molto dura. E un giorno non ce l'ho fatta più. Quando mia madre è tornata, le ho urlato, siamo andato in cima a questa collina, ecco che c'è la similitudine, e le ho gridato tutto il mio dolore. Siamo abbracciati e da lì mi ha detto, non ti lascio più. E tu la stessa cosa, no? In qualche modo l'hai promessa a loro, a queste tre donne. Perché io ho detto, queste tre donne non devono essere lasciate sole, cioè è una forza, bisogna conoscere queste donne. Se leggi il libro capisci tanta amarezza, tanta fatica, tanta solitudine, ma anche tanto coraggio. Che cos'è la mafia dei Pascoli? La mafia dei Pascoli è qualcosa di arcaico, ma è la mafia. La mafia non nasce nelle città, la mafia nasce nella campagna. Quindi la terra era la cosa più importante, se tu hai la terra sei il padrone. E quindi quando c'è qualcuno che rimane isolato, la cosa più facile è portarli alla via. E per portarli alla via non si fa in modo normale. A queste tre donne ho iniziato a tagliare tutti i reticolati che salvavano le recinzioni e buttare dentro animali. Gli animali distruggono i campi, distruggono il prodotto di questi campi. Pensate che prima che arrivassi io con la televisione, noi con il nostro programma, queste donne producevano circa 4.000 balle di fieno e centinaia di tonnellate di grano turco. L'ultimo anno hanno prodotto 300 balle di fieno e 10 kg di grano turco e nessuno ha comprato quel fieno. Io devo ringraziare un prenditore che si chiama Damigella, che fa amarmi graniti ma ha la passione del grano, fa una pasta straordinaria, mi ha detto ti aiuto io, vado io a prenderlo. Quello è siciliano. Quando dicono che io attacco la Sicilia, no, io attacco ciò che non funziona di questa terra, che è bellissima. Loro denunciano però nonostante questo nulla accade. Loro vanno dal capo mafia. La prima cosa che fanno, quando iniziano a capire che c'hanno dei problemi, vanno dal capo mafia. Perché quella terra, in quella zona, usava così. Il capo mafia dice ok, tranquille, proteggiamo noi la vostra terra. Perché? Perché in quella zona c'era Provenzano, latitante. E quindi far venire i carabinieri per stupidaggini, cose che si potrebbero risolvere, avrebbe potuto creare un'attenzione, un'attenzione che non doveva essere fatta. Il problema è che poi il capo mafia muore e qui c'è tutta la storia. Qualcun altro dice andiamo avanti, portiamo le vie, via le tre, perché hanno tre femmine. Tre femmine sole. Questo è il punto. Le donne sole vengono attaccate. E questa storia si può applicare in mille realtà italiane. Però loro decidono di restare lì. È la loro terra. È la loro terra. Non vogliono darla vinta agli altri. Cioè loro hanno una storia. Il padre era stato lungimirante, aveva preso queste terre. Quando il sindaco contesta l'acquisizione di quelle terre, cioè, sono nel 1923, lui dice, ma comprare tutte queste terre ci deve essere l'assenso dei corleonesi. Al tempo il prefetto Mori, figurarsi, se qualcuno l'avesse comprato in un altro modo, Mori sarebbe intervenuto alla grande. Ma poi a me non interessa il passato che hanno cercato di mascarriare del padre, sporcare. Anche se fosse stato il peggiore dei mafiosi. Queste tre donne da sole sono andate dai carabinieri. E lì trovano uno tipo il capitano Bellodi, regionale Civetta. Maresciallo Saviano, il capitano Tulli, che è il comandante della compagnia, che fa un lavoro importante in silenzio. E diventano l'unico riferimento di queste tre donne. Il paese si gira dall'altra parte purtroppo. Ecco, tu come trovi questa storia? Attraverso la lettura, immagino, della cronaca locale di un giornale? Un articolo di Salvo Palazzolo, che è uno dei più bravi giornalisti italiani, di mafia, grande conoscitore. Spesso si ritagliano i giornali, si mettono da parte. Poi qualcosa esce dal cassetto, la voglia di capire, la voglia di vedere. Devo dire che nella mia redazione gli autori non erano stati molto... Colpiti. No, sì, non avevano... Una volta queste storie sembrano banali. In realtà se ci entri dentro con l'anima, e allora capisci che c'è qualcosa di più. E poi abbiamo fatto una cosa che in tv non si fa mai. Far diventare seriale la storia. La tv brucia tutto, una lavanderia. Qui ho detto che dobbiamo andare fino in fondo, perché queste donne se si spengono i riflettori sono finite. E infatti i riflettori però si sono accesi e sono diventate appunto parte di mezza Italia che ha seguito questa vicenda. Mi parli di quel paese? Tu hai detto che il paese si è voltato dall'altra parte. Noi l'abbiamo vista quella puntata, no? Sì, in quel frammento c'era uno scontro. C'era una parte del paese o era tutto il paese così? No, no, sai cos'è che... Possibile che nessuno in quel paese... Intanto è un paese bellissimo. L'immagine che abbiamo dato due chiese, tra l'altro due realtà, no? Greco-ortodossa, cattolica, però tutte nella stessa piazza, quindi segno di un rapporto forte di fratellanza. E che quando devi batterti con la mafia, devi cambiare la cultura di un paese molto più faticoso che mandare i carabinieri militari. ci vogliono i maestri per cambiare le situazioni, che spieghino da scuola che la mafia è qualcosa che va combattuta perché è omertà, è silenzi, non è prosperità. Perché molti dicono, no, con la mafia si stava meglio. Fa la mafia quello che non fa lo Stato. E tu scrivi... Il paese non era tutto schierato lì. C'era sicuramente un... Sai, chi urla ha sempre ragione televisivamente, no? Ma l'altra parte silente c'era in piazza, a volte applaudiva le sorelle Napoli, però è una maggioranza silente, bisogna trovare il coraggio. Senti, tu scrivi... I cronisti di Nera sono i cantastorie dei tempi moderni. Non è una frase mia, l'ho letta anni fa, da qualche parte mi è rimasta impresta. Come gli artisti gerovaghi che un tempo portavano in giro per l'Italia con la chitarra e i fogli dipinti, le storie dei delitti di paese, oggi le pagine di cronaca dei quotidiani, ci propongono appunto racconti che arrivano dritti al cuore. Non ho sempre pensato di fare il giornalista, da ragazzino davo per scontato che il mio futuro sarebbe stato nell'azienda tessile di famiglia creata dal mio bisnonno. Tu in quella storia ci hai creduto, l'hai trovata, l'hai seguita, ne hai fatto tutta una stagione, adesso c'è questo libro. Che cosa ne è adesso delle sorelle Napoli? Tanto noi ci sentiamo sempre. Come ci si stacca da una storia così? Non ci si deve staccare, perché poi queste storie ti entrano dentro. Cioè è qualcosa che se uno legge il libro capisce. La solitudine in cui anch'io spesso mi trovo, perché anch'io vivo di solitudini, nel senso che quando fai delle battaglie paghi prezzi molto alti. Io per le mie battaglie ho pagato l'allontanamento dalla Rai, che è un prezzo altissimo, per cui se uno è nato e cresciuto in un'azienda pagare un prezzo per stare con gli ultimi, quelli senza parole, che non hanno possibilità di parola, è pesante. Però lo rifaccio, l'ho rifatto qui, Grande Libertà, e queste donne non andanno mai via dalla mia vita. Torniamo al prologo. Mia madre mi ha abbracciato al giorno e loro ogni volta che arrivo mi abbracciano. E quell'abbraccio, se è finto, non funziona. E quell'abbraccio è vero, deve continuare. Leggetelo Massimo Giletti, Le Dannate, perché sicuramente avete seguito la storia nella trasmissione di Massimo, però davvero in questo libro c'è tanto di più ed è spiegato veramente molto bene. Ci rivediamo... Ci rivediamo dove? Qua. Ci rivediamo... Beh, molto volentieri. Qua. Adesso hai ancora due puntate, no? Sì, 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 ancora due puntate. E poi la stagione prossima? La stagione prossima è prossima. Va bene. Mentana, forse... Mentana sa sempre tutto, quindi in anticipo... Mentana c'è... Bisogna chiedere a Mentana. Tu ci sei? No, dico, bisogna chiedere a Mentana che lui sa sempre tutto, il suo direttore, no? Tu dove vorresti stare? Vicino a chi ha bisogno e non ha voce per andare in televisione. Va bene, va bene. Dai, vedremo Massimo Giletti in bocca al lupo. Intanto hai da portare il racconto in giro delle sorelle Napoli. Grazie a Massimo, in bocca al lupo, naturalmente per tutto. Grazie, grazie. Andrea Pancani, Coffee Break. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.